Il primo Consiglio regionale del Marsilio Bis ci sarà il 23 aprile. La prima decisione scaturita dalla conferenza dei capi gruppo è partita la fase 2 con la conferenza che si è riunita per formare la giunta per le elezioni che dà il via libera al nuovo Consiglio regionale e alla giunta a Marsilio aprendo le porte ai 5 consiglieri non eletti in prima battuta ma che entrano con la surroga Carla Mannetti, Maria Assunta Rossi, Francesco Prospero, Marilena Rossi e Antonietta Laporta. Quella di oggi è stata una presa d'atto dei nomi e non il voto sulla convalida che ci sarà successivamente. L'ostacolo è che la minoranza sia estenuta dal voto per Maria Assunta Rossi, la prima candidata non eletta di Fratelli d'Italia, che entrerebbe in sostituzione dell'assessore qua ieri. La maggioranza ha votato favorevolmente ma ci sono dei giorni 30 per portare avanti osservazioni. La minoranza intende andare avanti sulla questione qua ieri. L'assessore però ha sempre ritenuto che fosse tutto a posto per la faccenda della compatibilità con il ruolo di medico e non ha esitato a firmare l'accettazione dell'incarico rifiutando di esercitare il diritto di opzione. Domani l'ufficio di presidenza proclamerà eletti nuovi che sostituiranno e nel prossimo Consiglio si prenderà atto della proclamazione dal giorno successivo al Consiglio, dal 24, i surroganti entrano di diritto in Consiglio. Ci saranno successivamente da fare le nomine dei presidenti di Commissione, sette nomi in corsa per cinque posizioni, Fratelli d'Italia che punta su Campitelli, Gatti e D'Addazio, Forza Italia sul Di Matteo e la Porta, la Lega propone di incecche e mannetti e rimane aperta. La questione è sottosegretario, anche se con ogni probabilità sarà Daniele Damario, posizioni divergenti come sempre tra maggioranza e opposizione. Noi non voteremo la surroga per quaglieri in attesa che l'ANAC a cui ci siamo rivolti si possa esprimere sulle sue incompatibilità di cui siamo ragionevolmente convinti. Siamo molto delusi, il primo Consiglio non è stato una bella prova per la maggioranza, visi tirati, sorrisi dimezzati sia nell'insediamento del Presidente del Consiglio sia per l'esposizione del programma da parte di Marsilio. Ambe due gli interventi sono stati davvero molto scarni perché erano fortissime le tensioni. Dico sempre, nell'interesse esclusivo della Regione Abruzzo, è un'opposizione molto ferma ma anche pronta a valutare tutte le proposte che dovessero pervenire dai banchi del Governo se ritenute di interesse per gli abruzzesi e gli abruzzesi. Ma io direi che la prima è andata male, è un inizio di una maggioranza che doveva avere continuità, che era tutto chiaro, che era tutto trasparente, su linee programmatiche ben precise. Invece abbiamo visto difficoltà già nell'assegnazione delle deleghe, addirittura la mancata nomina del sottosegretario che ci fa pensare magari a una modifica di quello che era aggiunta per il regolamento. Sono normali iter che vengono affrontati, non c'era una tempistica per il sottosegretario che verrà fatto a breve, così come le commissioni stiamo aspettando la surroga per evitare di interrompere e sostituire in corso d'opera i componenti e quindi a breve si costituiranno anche le commissioni.